Eccellenza, la forza delle donne dalla Bibbia ai nostri giorni. Che cosa dirà? Intanto l'escursus del titolo è molto vasto, perché io focalizzerò la mia attenzione sulla forza di una donna straordinaria la cui vita è raccontata nella scrittura, nel libro di Ruth. Si tratta proprio di Ruth e della sua vicenda personale. È un percorso dalla disperazione alla speranza, un percorso di passaggio dalla disperazione alla speranza all'interno del quale le donne hanno un ruolo trainante. E penso che questo sia un dato che sia una costante, perché per la sensibilità nei confronti delle cose belle e vere che è seminata da Dio nei cuori delle donne, allora sono spesso le donne ad aiutare l'umanità a recuperare una visione positiva della storia, cioè la speranza. La speranza e nello stesso tempo possiamo dire che il ruolo della donna continua ad essere un ruolo fondamentale, non solo nella famiglia, ma per la sensibilità che ha, la si ritrova in ogni ambito? Sì, effettivamente le nostre donne hanno capacità che utilizzando un'immagine del mondo informatico dovremmo dire multitasking. E questa capacità ha una base biologica, neurologica, ma è frutto anche di tanta educazione, di tanto sacrificio, di tanto servizio. Quindi per un verso la natura, per l'altro la cultura, l'educazione e l'amore hanno conferito alle nostre donne queste capacità straordinarie. Lei faceva riferimento a Ruth come esempio di salvezza? Sì, Ruth è intanto un'immigrante e quindi una donna che in cerca di pane ha lasciato la sua terra. Ed è una donna che poi entrata in Israele ha conosciuto il Dio di Israele, però per una via molto particolare, che non è quella della rivelazione o della legge. La via che lei ha percorso è quella delle relazioni. Nell'amicizia, nell'alleanza con la suocera Noemi e poi con il suo futuro marito Boz, lei ha conosciuto Dio. Quindi il messaggio è interessante. Si può conoscere Dio attraverso le relazioni vere che uniscono gli uomini e le donne. Che cosa ci dice su questo incontro dedicato alla donna? Questo incontro dedicato alla donna sarà sicuramente diretto da Monsignor Panzetta, per come conosco, sulla forza delle donne, di Ruth in particolare, questa figura femminile che spicca in tema di immigrazioni, capace di accogliere una suocera che era la mamma del marito che aveva perso ed è una grande misura di sensibilità femminile. La forza delle donne però, in un tempo in cui le donne sembra perdano voce anche, consiste a mio parere nella capacità del loro strabismo, uno strabismo che non è quello di Venere, che le rende civettuali e seducenti, ma è uno strabismo che le mette nelle condizioni di vedere la realtà a doppio livello, la realtà che è e quella che potrebbe essere con il sacrificio.